La polizia locale di Salerno ha sequestrato 80 kg di pane. Gli agenti in corso Garibaldi hanno notato il conducente di un forgone, verosimilmente dipendente di un panificio, che si apprestava a prelevare dal veicolo una cesta di plastica forata con all'interno pane di fresca produzione, privo di busta idroforata. Pertanto il personale in servizio si è fermato nei pressi del mezzo per procedere alla relativa contestazione di 833 euro. Ispezionati il forgone, i poliziotti hanno rilevato la presenza di un totale di 5 ceste di pane già predisposte per la consegna, le singole rivendite per un totale di 70 kg circa e poggiate a terra e in un ambiente assolutamente non idoneo per il trasporto di alimenti. Altri due busse contenenti sempre pane prodotto dallo stesso panificio per ulteriori 10 kg collocate nell'abitacolo di guida, evidenti le carenze igienico-sanitarie. Gli agenti con gli ispettori dell'ASLA, sentito il PM di turno, hanno proceduto al sequestro penale dell'intero carico di pane.